Salone del Risparmio 2018, siamo con Donato Savatteri, Country Head per l'Italia di T.R.O. Prowes. Dottor Savatteri, qui al Salone del Risparmio avete avuto, come tutte le case di gestione, un confronto in prima linea con i clienti o potenziali clienti, con gli addetti ai lavori. Quali sono, secondo lei, i temi che in questo momento sono di maggiore interesse sia per l'industria che per i risparmiatori? Sì, buongiorno. Sicuramente nell'era di Mifid 2 uno dei temi principali è quello dei costi di gestione e delle spese correnti sui fondi, sulle strategie. Questo è un tema molto importante e molto sentito e devo dire con piacere, con una punta d'orgoglio che T.R.O. Prowes è da sempre in prima linea su questo fronte. Le spese correnti ai nostri fondi sono mediamente più basse dell'industria, il 96% dei nostri fondi azionari hanno spese di gestione inferiore alla mediana della stessa categoria e addirittura il 100% dei nostri fondi obbligazionari. Questo lo spiego con il nostro metodo. In sostanza le spese correnti di un fondo sono le management fee più le spese operative e amministrative. In questo caso c'è chi opta per una quota fissa, indipendentemente da quante sono le spese operative e amministrative, quello viene pagato dal cliente, quindi se sono di più, se sono di meno l'asset manager in cassa, il differenziale. C'è chi applica le spese così come sono e vengono trasferite al cliente, c'è chi come T.R.O. Price applica un cap, un tetto. Quindi, indipendentemente da quanto saranno le spese finali, il cliente sa già quanto pagherà e un eventuale surplus verrà assorbito dalla T.R.O. Price. Questo secondo noi è il modo migliore per contenere le spese e dare trasparenza alla clientela. Per quanto riguarda invece lo scenario dei mercati finanziari, in particolar modo in questo periodo i mercati statunitensi sono un po' sotto i riflettori per quello che sta avvenendo a livello geopolitico con la guerra dei Dazi, inaugurata dall'amministrazione di Washington. Ecco, lo scenario a Wall Street, secondo lei, dottor Sarvateri, qual è? Ma noi, da buoni americani, siamo sempre piuttosto positivi sull'azionario America e lo confermiamo anche in questo momento. La guerra dei Dazi per ora è più a parole che nei fatti, sono misure semplicemente annunciate e non implementate, si arriverà ad una negoziazione che già sembra stia avvenendo. Tra l'altro i Dazi annunciati rappresentano, immaginatevi, meno dell'1% del PIL americano, quindi alla fine se guardiamo i numeri reali non parliamo di tanto. E d'altro lato invece l'economia americana continua a beneficiare di un ottimo stato di salute. Addirittura marzo è stato il novantesimo mese consecutivo con un aumento di posti di lavoro, quindi con creazione di nuovi posti di lavoro. L'inflazione è sotto controllo, la riforma fiscale sta avendo benefici sulle aziende, che aumentano i loro utili e possono reinvestire, possono anche ridare cash, ridare sotto forma ai dividendi, capitale agli azionisti. Quindi noi manteniamo una visione positiva sugli Stati Uniti, certo meglio ancora con una gestione attiva perché comunque la volatilità adesso è superiore rispetto al passato. Grazie dottor Savatelli. Grazie mille a voi, buon lavoro.